ciao a tutti ragazzi oggi come ogni primo lunedì del mese video dedicato alle bizzarre avventure di jojo come potete vedere video unboxing è in recensione di jojonium numero 17 versione limited infatti di questa versione oltre alla versione normale c'è anche questa in cui la star comics regalava appunto questi segnalibri plastificati che riprende anche un po la versione giapponese perché mi sembra che appunto c'erano anche in quella prezzo di 15 euro e 90 come si può vedere solita edizione cartonata e adesso andiamo ad unboxare questo è l'ultimo numero di questa edizione infatti ricordiamo che jojonium arriva fino alla terza serie ci abbiamo anche fatto un video sul canale insomma dedicato sia qui che in giappone quindi finché lì non fanno uscire l'edizione appunto di diamond non la fanno uscire teoricamente neanche in italia esatto poi se alla star comics prende non so i permessi per farlo è tutto un altro discorso ma io non questo vabbè era il fogliettino illustrativo per questi segnalibri adesso andiamo a vedere davvero davvero tanta roba sono proprio da da staccare come si può vedere si possono staccare da insomma dall'inserto davvero molto 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 belli proprio tutti dedicati a stardust ah no anche alle altre serie come si può vedere c'è jonathan joseph caesar jotaro tutti i jostar insomma delle delle prime delle prime tre serie infatti jojonium con i relativi anche cattivi dietro vero bello tanta roba davvero fatti molto bene questi 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 segnalibri che appunto sono da staccare ora vedremo poi se staccarli oppure no poi andiamo a dare un'occhiata al volume come sempre questa edizione che consiglio che abbiamo consigliato a tutti tutti i video che che abbiamo fatto edizione cartonata davvero davvero bellissima qualità anche della carta davvero eccellente vale praticamente tutti tutti i soldi spesi per ogni singolo volume perché veramente una una bellissima edizione tanta roba qui vabbè spoiler per chi non ha letto o ha finito di leggere la terza serie con appunto l'ultimo insomma l'ultima parte della storia davvero molto bello tanta roba proprio come la rivista ecco quando gli davano le pagine tanta roba davvero molto molto bello tanta roba bellissima edizione ora poi noi recupereremo anche tutti gli altri numeri perché appunto abbiamo stavamo recuperando pian pianino tutti i numeri sì abbiamo le prime due serie praticamente adesso dovremmo recuperare anche la terza comunque piano piano recupereremo andiamo a vedere qua se c'è qualcos'altro no non c'era non c'era niente poi io vi ricordo che abbiamo fatto anche il video confronto tra l'edizione italiana e quella giapponese di Giojonimo se siete curiosi di sapere se ci sono qualche se c'è qualche differenza sì trovate appunto tutti i canali e tutti scusate i video sul canale nella playlist le bizzare avventure di Giojo e anche in video acquisti manga bella anche la mappa qui del Cairo insomma davvero la macchina e tutto quelli di tarocchi bello tanta roba quindi ragazzi per il video è tutto qui ci sono anche i segnalibri in regalo di questa di questa edizione se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentato condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao